Signor Tino D'Alessio, dopo tanto qui nei campetti di Udine, che effetto fa? E' sempre bello, è sempre bello nel senso che io ho sempre avuto un gran piacere stare con le Friuli, a Udine in particolare, perché mi sono trovato benissimo, ho lasciato un sacco di amici e ci vengo sempre, almeno un paio di volte all'anno, così, a trovare amici, a fare la cena assieme, perché? Perché sono stato benissimo, no? Queste sono occasioni giuste per fare questa, la partita conta, quello che conta? La partita non conta, conta ritrovarsi, stare assieme, perché è una delle cose più belle della vita, sono passati, quanti? La cinquantina? 40 erotti, avevamo i capelli bianchi, ero neri, però lo spirito è sempre bello, se pretendo è sempre bello di ritrovarci, è una prerogativa in particolare però di Udine, del Friuli. Ok, allora parlando di Udine e del Friuli, prima abbiamo scopriato due parole sull'udinese, cosa si sente di dire per la costruzione di questa squadra per il prossimo campionato? Visti gli impianti, visti il nuovo start, che è da tanto tempo che abbiamo venuto da queste parti, l'udinese merita una squadra migliore, nel senso che con queste strutture, almeno non dico tra le prime squadre italiane, però subito dopo e di sotto di queste, l'udinese deve starci, perché lo merita, lo merita il pubblico, lo merita la società, è un dovere, secondo me, fare meglio dell'altra parte. Grazie.